Salve a tutti io sono Ressler e benvenuti in questo nuovo tutorial di Total War Warhammer 2. Oggi parleremo dello schieramento del nostro esercito cioè del posizionamento che diamo alle nostre truppe prima dell'inizio di una battaglia. Allora io qui ho scelto di un esercito del Reikland, quindi gli umani, e ho impostato un esercito abbastanza vario, abbastanza visto, giusto per farvi vedere come posizionare le varie tipologie di unità. Allora partiamo dall'inizio, noi abbiamo ogni esercito ha bisogno di un fronte, cioè di unità che stanno lì davanti a bloccare le cariche del nemico e a farci guadagnare tempo. Sono delle unità che non dobbiamo preoccuparci di poter perdere, spesso e volentieri sono quelle unità meno costose e che corrispondono al nome, nel caso del Reikland, di lancieri. Comunque tutte quelle unità che hanno scudo, tutte quelle unità che, ripeto, resistono alle cariche dei nemici. Quindi davanti abbiamo bisogno di lancieri per resistere alle cariche delle unità nemiche. Allora, subito dietro ai lancieri possiamo mettere tutte quelle unità che invece non hanno la difesa dei lancieri, spesso e volentieri costano di più e sono quelli lì che fanno più danno. Stiamo sempre parlando di unità di fanteria, in questo caso abbiamo le grandi spade, cioè sono quelle unità che sono anti-fanteria e sono quelle che fanno il grosso dei danni. Allora, spesso e volentieri i giocatori di Total War tendono a fare questo, ok? Ammettere le unità, aspettate perché così non è chiaro, perché ci sono queste unità di arcieri che danno fastidio. Allora, anzi, spostiamo tutto così vi è molto più chiaro e non facciamo confusione. Allora, dicevo, spesso e volentieri i giocatori di Total War tendono a fare questo, cioè ammettere le unità di fanteria che fanno l'anno subito dietro i lancieri. È sbagliato. Perché è sbagliato? Perché se dall'altra parte nell'esercito nemico ci sono unità di artiglieria, allora le unità di artiglieria non sono molto precise e tendono sempre, soprattutto quelle degli A, tendono sempre ad attaccare le prime unità che vedono. Le prime unità che vedono ovviamente sono gli lancieri. Quindi andando ad attaccare i lancieri colpiranno qui. Ora, queste unità di artiglieria non sono, non essendo precise, va a finire che sparano due colpi. Il primo colpo colpisce il lanciere, il secondo colpo però va a colpire la grande spada che è quell'unità che invece noi vogliamo preservare, ok? Quindi le grandi spade rispetto ai lancieri non vanno mai messe così, ma vanno messe, aspettate un attimo, facciamo così, vanno messe così. O anche così. Non c'è bisogno, non c'è bisogno che stiano immediatamente dietro ai lancieri, perché durante la battaglia, credetemi, hanno tutto il tempo di raggiungere le truppe. E altra cosa, visto che adesso sto posizionando di nuovo i lancieri, non allungate mai l'esercito, le vostre unità per tutta la loro lunghezza, cioè non fate mai questo, ok? Perché non fare mai questo? Perché sì, è vero che andate a coprire più spazio, ma in realtà non c'è bisogno di coprire più spazio. Andando a coprire più spazio viene meno il ricambio. Se vedete in questo momento un'unità di, quest'unità di lancieri che è distesa al massimo, dispone di quattro file e di quest'altri pochi lancieri qua dietro. Quest'unità di lancieri che invece è molto più compatta, dispone di ben sei unità di lancieri, più questa settima che sta qua dietro. Cosa significa? Significa che per abbattere quest'unità di lancieri ci vorrà molto più tempo, sarà più in grado, sarà in grado di resistere agli attacchi dei nemici per più tempo, dandovi modo appunto magari di fare più danno con, di guadagnare tempo sostanzialmente. Mentre invece se mettete un'unità di lancieri in questo modo, quest'unità di lancieri cade subito. Allora quindi andiamo a riposizionare la nostra unità di lancieri laddove l'avevamo messa, se mi riesci. Ok, perfetto. Allora c'è anche da dire una cosa, che noi queste unità di grandi spade non è detto che le dobbiamo tenere una vicino all'altra, noi volendo possiamo anche fare così, eh? Cioè non c'è bisogno che siano parallele alle unità di lancieri, volendo possiamo fare anche così e in certi casi anche meglio perché se un colpo di una, di un'artiglieria pesante non colpisce qui ma colpisce qui, eh, tenendo l'unità, la seconda unità di grande spada qui, viene, va a essere colpita, invece andando a colpire qui colpisce il vuoto. Allora adesso che abbiamo messo là davanti la nostra, le nostre unità di fanteria, aspettate che ogni tanto faccio anche un po' di confusione, dobbiamo andare a predisporre quelle che sono le nostre unità da tiro. Allora questa è una cosa che faccio anche io durante la campagna di Torek, anche se però la campagna di Torek che porto sul canale è abbastanza chill, cioè è giusto per portare un contenuto, non è che, non è un, non gioco seriamente. Diciamo, molti giocatori fanno questo, cioè mettono le unità da tiro dietro l'esercito, è un errore. Perché è un errore? Perché mettendo le unità da tiro qua dietro, loro iniziano ad attaccare molto ma molto più tardi, vedete il cono, il loro raggio di visione arriva più o meno fin qui. Mentre se queste unità da tiro, questi arcieri, li mettiamo qui in prima linea, guardate quanta distanza prendiamo. Ora, perché mettere gli arcieri in prima linea oltre ad attaccare prima? Perché qualcuno mi potrebbe dire, sì però vengono presi di mira dall'esercito nemico. Sì, ok, qual è l'unità di fanteria che carica due unità di arcieri? Non ce ne sono perché verrebbero rallentate subito e massacrate. A quel punto, allora qualcuno potrebbe dire, però ci sono le unità di cavalleria che caricano subito. Certo, ci sono le unità di cavalleria, però è anche vero che noi nel nostro esercito disponiamo di due alabarde. Allora, la truppa di alabarda la possiamo mettere tranquillamente qui, in questo modo, a protezione, in modo tale da poter scalare. Quindi, che cosa andremo a fare? Le unità di arcieri inizia la battaglia, le unità di arcieri attaccano la fanteria, c'è un'unità di cavalleria che attacca frontalmente, le unità di arcieri scalano all'indietro, l'unità di alabarda che resiste alle cariche delle unità nemiche avanza e il gioco è fatto. La cavalleria viene bloccata, le unità di arcieri che sono scalate all'indietro continueranno ad attaccare senza nessun tipo di problema. Stessa cosa possiamo fare con le unità di artiglieria. Eccole qui, le unità di artiglieria che possono essere messe dall'altra parte e qui ci possiamo mettere un'altra unità di alabardieri. Allora, per quanto riguarda le unità di artiglieria, c'è da fare un discorso a parte per un attimo, perché hanno questa modalità sempre attiva all'inizio di ogni battaglia che si chiama fuoco a volontà. Allora, nel momento in cui noi teniamo attivata la modalità di fuoco a volontà, le unità di artiglieria attaccheranno la prima unità visibile. Quindi, se è un'unità che è un'unità, che ne so, di lancieri, inizieranno ad attaccare le unità di lancieri. Ora, il concetto è che non è sbagliato che attacchino un'unità di lancieri, cioè andare a limitare il fronte nemico prima che questo possa caricare non è un errore. Però è anche vero che ci sono delle unità che sono molto più forti di altre. Allora, se con le unità di artiglieria, invece di attaccare i lancieri nemici, andiamo ad attaccare le grandi spade nemiche, che in ogni caso sono un fronte, è anche meglio. Quindi, prima di una battaglia andate a disattivare la modalità di fuoco a volontà. Prendete di mira l'unità che volete attaccare, ok? Cliccate il comando attacca e dopo continuate ad attaccare con fuoco. Attivate di nuovo fuoco a volontà, in modo tale che queste unità continueranno ad attaccare l'unità che voi gli avete detto di aggredire. Per quanto invece poi riguarda le unità di cavalleria, allora le unità di cavalleria io personalmente preferisco sempre tenerle divise e sempre in numero pari. In questo modo, sia se vogliamo fiancheggiare il nemico, quindi attaccare ai fianchi in questo modo, aggirare il nemico in questo modo per attaccare le linee, le unità a distanza nemiche, sia per un modo difensivo, per un aspetto difensivo, abbiamo un esercito, un'impostazione molto più equilibrata. Ora, se per quanto poi riguarda il Lord, il Lord personalmente è sempre meglio tenerlo un pochettino più dietro, mentre l'eroe, che è quello lì che deve picchiare, può anche stare più avanti con la linea, con il fronte. E questo più o meno è uno schieramento di un esercito, può essere un esercito qualsiasi. Allora, naturalmente ci sono, credetemi, centinaia e centinaia di schieramenti in Total War War Hammer 2 e spesso e volentieri, quando si fanno gli schieramenti, bisogna tener conto non soltanto delle nostre truppe, ma anche delle truppe nemiche e della conformazione del territorio. Qui adesso ci troviamo su una pianura, ma se ci fosse stata, per esempio, tra noi e il nostro esercito ci fosse stata tutta questa montagna, noi chiaramente non è che ci saremmo messi frontalmente di fronte alla montagna, ok? Avrebbe stata una cretinata, avremmo cercato di posizionare il nostro esercito ai lati o compatto da un lato. veramente ci sono tanti tipi di schemi che si possono adottare, però questo è già un chiaro esempio di come si può, ok, impostare uno schieramento. Poi è chiaro ragazzi che durante la battaglia tutto cambia, nel senso che questo è lo schieramento iniziale, punto. Poi durante la battaglia dovete essere voi bravi a spostare le vostre unità in base a quello che succede. Dovete essere voi a capire quando è il momento opportuno per fare i raddoppi, cioè per andare a spostare le grandi spade in supporto dei lancieri in modo tale che il vostro fronte non cada. Dovete essere voi bravi a far scalare gli arcieri se vengono caricati dalla cavalleria e mettere davanti gli alabardieri, ok? E stessa cosa dovete essere voi bravi con la cavalleria a difendere la backline, insomma le linee arretrate del vostro esercito o andare a fiancheggiare la backline nemica. Ci sono veramente tante cose da tener conto e allo stesso tempo bisogna sempre adattarsi un po' alle situazioni che alle quali andrete incontro. allora io, vabbè, tanto so già che non commenterete quindi non vi chiedo neanche di commentare il video, non vi ricordo neanche di farmi domande per qualsiasi cosa perché va a finire che non me le fate. Quello che vi ricordo è di lasciare un like al video, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e un saluto a tutti dal vostro esercito. Al prossimo tutorial che sarà un tutorial delle campagne, andremo a vedere come fare le varie campagne di Total War Warhammer 2, dalle più semplici alle più difficili. Alla prossima, ciao ciao!